Ciao a tutti, sono Marco Busani, ci troviamo alla Fiera di Vicenza. Sono oggi a presentarvi alcune delle novità per quanto riguarda la Pesca Feeder 2015 Trabucco. Cominciamo con la Signum XPS Competition che fa due lunghezze, 3,60 m e 3,90 m. La 3,60 m ha un casting weight di 90 grammi potenza massima, mentre la 3,90 m ha un casting weight massimo di 125 grammi. La canna è composta da quattro vette, di cui una in fibra e tre in carbonio. La particolarità delle nostre canne da feeder è quella che le vette hanno, per differenziarsi una dall'altra in base alla potenza, un diverso colore della legatura, light action, medium action e strong action. Un particolare importante che forniamo nelle nostre canne da feeder è quello di questo rinforzo, che oltre ad essere, come ho detto prima, un rinforzo alla struttura della canna, vi aiuta anche nel momento in cui si va a smontare la canna con le mani bagnate per avere un maggior grip. Sempre della serie Signum passiamo alla TXL Supreme Feeder. Questa canna fa due lunghezze, 3,60 m e 3,90 m. La 3,60 m fa due grammature, 75-90 grammi, mentre la 3,90 m fa solo 90 grammi. Rispetto a quella che vi ho presentato prima, è una serie di canne appena un po' più leggere. Anche in questa abbiamo quattro vette, di cui una in fibra di vetro e tre in carbonio. Anche qui, come sempre, si contraddistingue la potenza delle vette dal colore della legatura incollato nella vetta. Come sempre, anche in questa canna, il particolare degli innesti, con questo rinforzo per avere un maggior grip e per avere più rigidità dove si innestano i pezzi per una maggior potenza della canna. Grazie a tutti.